1993 Sembra ieri Il Britpop rivoluzionava il mondo della musica I dinosauri erano i protagonisti al cinema E anche sulle strade Poi arrivò qualcosa di speciale Qualcosa di veramente inaspettato Perfino Jeremy Clarkson ne fu colpito La prova di Top Gear fu molto positiva Anche se non tutti ne apprezzavano il look La Mondeo aveva l'airbag di serie Una novità assoluta E i tanti accessori piacevano all'uomo della strada La Mondeo arrivò direttamente in cima alle classifiche Era così straordinaria Che nel 1994 fu nominata Auto dell'anno Gli uomini che hanno creato la Mondeo Sapevano di aver creato qualcosa di speciale Ma nel costruire questo successo non erano mancate le difficoltà Alcuni vecchi modelli Ford erano stati criticati per la maneggevolezza Lo sviluppo della Mondeo richiese più tempo per evitare gli errori del passato Ma i segnali erano sbagliati In America dove arrivò con il nome di Ford Contour Fu un flop Ma non importava In Europa la Mondeo stava letteralmente volando Anche in pista era pronta a vincere E un certo campione di Formula 1 non le risparmiò un duro trattamento sul circuito di Donington La Mondeo fu salutata in tanti paesi nel corso di uno spettacolare viaggio intorno al mondo Da Londra a New York La spedizione passò per il tunnel della Manica Mentre era ancora in costruzione Attraversò la Russia a meno 59 gradi E arrivò nel continente americano Passando dallo stretto di Bering Nel 1996 la Mondeo si rinnovò nel lucco La Germania vinceva gli europei La pecora Dolly era il primo clone della storia E la NASA annunciava la scoperta di tracce di vita su Marte E per sapere cosa c'era là fuori Oltre alla verità La Mondeo aveva un fantastico navigatore satellitare La seconda generazione arrivò nel 2000 Nascevano i primi social network Putin diventava presidente della federazione russa E i primi astronauti raggiungevano la stazione spaziale internazionale Il nuovo modello europeo era ancora più ricco di tecnologia e gadget Il motore era davvero in ottima forma E le rivali non riuscivano a starle dietro Oltre alla vocazione sportiva La Mondeo continuava a stupire per la sicurezza Come dimostravano le pubblicità di quegli anni È dolcissima, vero? La terza generazione arrivò anche al cinema E alla guida c'era un affascinante gentleman inglese Appassionato di gadget e tecnologia Nel frattempo, Romania e Bulgaria diventavano europee E due milioni di giovani raggiungevano Roma per la giornata mondiale della gioventù E il giubileo del 2000 Oggi stenteresti a credere a tutte le cose che la Mondeo sa fare Si accorge delle altre auto che ti circondano Anche di quelle che non riesci a vedere E se rischi di uscire di strada Ti avvisa in tempo Ed è un'auto che sa rispettare l'ambiente L'anno scorso ha vinto molti riconoscimenti E ad oggi Ford ha venduto 4 milioni e mezzo di Mondeo in tutta Europa Mondeo compie 20 anni E li festeggia con la forma più smagliante La migliore efficienza E le più avanzate tecnologie di sempre 20 anni di soddisfazioni e successi A partire dai quali, oggi Guardiamo al futuro di questa straordinaria auto Buon compleanno Bellezza